da tratta coi petardi allora qui è sempre peggio mei dei mei dei houston abbiamo un problema anzi 15 problemi anzi 35 il mondo o premessa stasera ero full immersion in mille mila progetti che sto portando avanti il 2022 sarà un anno stracolmo per me di nuove situazioni ma nel frattempo le basi e le strutture di queste nuove situazioni le sto tirando giù ora e quindi sono stata anche fino a tardi a organizzare determinati eventi che dovranno accadere e di cui vi parlerò nel momento in cui ci saranno in maniera effettiva per ora l'unica mia certezza è che entro spero mi auguro tutto dipenderà dalla dalla situazione di editoria ma quello che so per certo è che entro massimo dovrebbe la fine della prossima settimana uscirà finalmente dopo un lungo parto doloroso il mio sesto libro che si intitolerà e incanti radicanti e che è un libro che mette le basi per avvicinarsi al mondo dell'esoterismo del ritualismo della ritualistica in maniera giusta e corretta senza incappare nei soliti errori che si vanno trovando per il web dove ammazza ammazza basta che sanno fare un copia e incolla e tutta la stessa razza e finalmente dopo lunga e penosa malattia sono riuscita a partorirlo le tempistiche appunto di messa in vendita dovrebbero essere entro la fine della settimana prossima se l'universo vuole sempre e soprattutto se la situazione delle edizioni vuole ma confido nel cosmo per quanto riguarda le tempistiche d'ufficio ma ora devo parlare dell'argomento serale e non delle mie dei miei progetti a breve lungo termine ma questo ci tenevo a dirlo perché ero tutta bella esaltata che finalmente riesco a pubblicare il sesto che è il terzo manuale no il secondo manuale perché ho fatto due manuali finora due di racconti esplicativi e spiegazioni e due romanzi invece l'argomento di questa sera appunto come dicevo era da lì che ero partita ero partita col dirvi che ero immersa full immersion in un altro di questi progetti che si devono concretizzare tra la fine del 21 del 2021 e gli inizi del 2022 e ho fatto tardissimo non avevo la più pallida idea di che argomento trattare stasera anche perché in questi progetti nei quali ero immersa stasera abbiamo dovuto con altri colleghi tirare giù alcune scalette proprio di argomenti e quindi argomenti di qua argomenti di là argomenti di su argomenti di giù alla fine sono arrivato a un certo punto che quando mi sono trovato davanti al cellulare non avevo in mente manca un argomento di cui parlare stasera ma siccome ci tengo a caricare sempre un video almeno ero lì che mi scervellavo destino vuole universo vuole cosmo vuole suggeritori di amiche parente vogliono è saltato fuori un discorso in chat con le mie colleghe di congrega e da lì poff poff è magicamente apparso il nome di un argomento che non avevo ancora trattato e quindi ho deciso che parlo di questo gli accompagnatori dei ricordi cosa saranno sono delle entità sono delle entità preposte che hanno un grado di importanza come grossomodo i tutelari e che accompagnano proprio materialmente attraverso l'astrale attraverso il sogno lucido attraverso la meditazione regressiva le persone nei loro ricordi animici quindi delle reincarnazioni precedenti delle vite precedenti a cosa servono perché servono e quando servono ci sono ricordi animici che noi possiamo ricordare in qualunque momento o per un caso che ne so sto passando sto facendo un giro per bancarelle vedo una collana di pietre in chips e questa visione di questa collana che è in vendita mi fa riaffiorare una sorta di ricordo animico mi resta impressa io vado a dormire e entro in sogno lucido entro in sogno regressivo e mi sogno una parte di quella vita passata che era collegata a quella collana che ho visto o perlomeno una collana simile un qualcosa che mi ha fatto risvegliare quel ricordo non è detto che io sogni la situazione intera perché poi entra in gioco anche comunque la memoria materiale della nostra vita terrene quindi molte volte quando si tratta di sogni regressivi il passato quindi le vite passate e il presente quindi quello che noi viviamo nell'arco della giornata vanno un po a mescolarsi ma sono ricordi dati proprio dall'input dell'aver visto quell'oggetto quella cosa adesso ho preso il nastro ma tanto mi piace qualcosa in mano e sono ricordi che per la nostra anima in questa esistenza che noi li ricordiamo che noi non li ricordiamo non ce ne può fregare di meno ma per nostra curiosità personale o anche solo per comprenderci e capirci meglio è sempre comunque cosa buona e giusta riuscire a recuperare qualche ricordino reincarnico qualche regressione e fin lì non servono i guardiani degli accompagnatori dei ricordi ci sono però delle situazioni che a volte scaturiscono dalla memoria animica sempre o attraverso un sogno regressivo o attraverso una meditazione regressiva e via dicendo che però possono essere fondamentali da ricordare con dei dettagli precisi oppure potrebbero essere non ricordabili ovvero in questa nostra vita per le necessità nostre che abbiamo scelto in questa reincarnazione non dobbiamo ricordare allora entrano in gioco queste entità che sono entità di sostegno di sono entità cicerone chiamo io come anche i tutelari entità che in qualche modo accompagnano tanto che vengono definiti in occultismo accompagnatori dei ricordi o della memoria che fanno in moda e maniera se è un ricordo che noi dobbiamo avere perché ci aiuta nello svolgimento anche di questo compito terreno l'accompagnatore farà in moda e maniera da spingerci nella direzione giusta e da farci vedere lui stesso certe input che ci facciano ricordare questa cosa o al contrario se noi in questa vita per necessità meramente materiali di esistenza per arrivare a finire i nostri compiti in questa vita terrena non dobbiamo ricordare certi particolari succederà che questo accompagnatore dei ricordi farà in moda e maniera da sviarci e da non farci ricordare quella cosa quando può succedere per mille motivazioni diverse porto un esempio proprio terra terra se io in questa vita sono venuto a fare il dittatore lo stronzo l'assassino e via dicendo magari ricordarmi che nel futuro visto come si costruiva un'arma batteriologica di proporzioni mondiali oppure ho visto come si faceva nel passato un incantesimo necromantico so fare un incantesimo c'è la mia anima sa fare un incantesimo necromantico per far risuscitare i morti ma qui non lo devo fare questo accompagnatore dei ricordi farà in modo che io non ricordi quei particolari oppure al contrario se io sono in una situazione statica e non riesco in nessun modo a risolvere quella situazione ma per esempio è una situazione che io ho già vissuto in vite passate parlo di vite passate per non parlo di loop reincarnici che sono un'altra cosa potrebbe aiutarmi a comprendere prima e meglio come sbrogliare questa matassa allora in quel caso l'accompagnatore dei ricordi farà modo e maniera di aiutarmi a ricordarlo come fa come fa dipende da come tu stai facendo e stai vivendo quella situazione se sei in negativo o sei in astrale te lo ritroverai direttamente davanti che forma sono entità di tutte le razze perché essere un accompagnatore dei ricordi è tra virgolette un lavoro non una razza non è un compito di una razza singola come il tutelare che invece è proprio una razza a sé stante con una sua figura e quindi può essere un defunto può essere un anziano può essere un guardiano come razza può essere un demone può essere un angelo può essere qualsiasi razza della quarta o della quinta dimensione indistintamente perché ha scelto di fare quel servizio mettiamola così chiamiamolo lavoro per comodità di linguaggio umano e quindi non ha una forma dico cioè non ha una forma sempre uguale per cui non si può dire come faccio a riconoscerlo non puoi perché potrebbe apparire come un angelo però potrebbe anche non essere l'angelo che deve farti da accompagnatore dei ricordi potrebbe quello che vedi potrebbe essere il tuo angelo guida potrebbe essere un angelo che passava di lì potrebbe essere un angelo che voleva raccontarti qualcosa per un'altra questione la guida di qualcun altro potrebbe non essere un angelo ma essere un altro tipo di entità che ti appara a te in forma di angelo per tranquillizzarti o per rassicurarti visto la mentalità umana e le credenze sbagliate ma umane che vedere l'angelo tranquillizza potrebbe anche essere quel motivo e quindi non puoi riconoscerlo come se è un defunto perché potrebbe essere un tuo filo rosso che non hai mai conosciuto però è un defunto che lui ti conosce potrebbe essere un defunto che hai conosciuto ma che magari appare con una forma diversa perché si ricorda un'altra vita re incarnica potrebbe essere un defunto che non hai mai conosciuto ma che hai ingucchiato per caso durante una regressiva o durante un viaggio astrale o durante un viaggio in negativo o durante un sogno lucido quindi non c'è la regola per cui come faccio a riconoscere un accompagnatore dei ricordi non avrà mai una risposta alla domanda perché non c'è un modo per riconoscerli se proprio sei una di quelle persone estremamente sveglie estremamente captiche estremamente ferrata in occultismo in spiritismo in esoterismo annessi e connessi tutte e tre le diramazioni potrebbe venirti qualche sospetto in base a dove ti spinge ad andare ma è tutto molto soft è come dire se fossi sherlock holmes se fossi una persona con una cume e un'intuitiva fuori dal comune quindi a meno che non te lo dica lui ciccia guarda sono un accompagnatore dei ricordi vedi di venirmi dietro non rompere le balle che ti devo far vedere delle cose oppure vedi di non andare lì che lì non devi guardarci vedi di andare di là allora un altro paio di maniche se te lo dice chiaro e palese hai la certezza che sia un accompagnatore dei ricordi ma altrimenti certezze un gennaio questo è il loro mestiere io parlo con questi termini semplicemente per far comprendere il loro dovere il loro onere che hanno scelto loro di fare per motivazioni meramente loro anche solo per fare un'esperienza animica perché ci sono anche esperienze animiche che noi facciamo e dobbiamo fare che non sono prettamente legate alle reincarnazioni terrene noi facciamo delle esperienze animiche anche di là per cui è un discorso abbastanza ampio quello che fa però è questo qui cioè dove ci sono ricordi che dovete ricordare vi spingerà con immagini a voce vi dirà di seguirlo oppure senza neanche farsi vedere ma vi farà trovare degli indizi che porteranno la vostra memoria a ricordare quella cosa oppure al contrario se non dovete ricordare e magari questo pacchetto di sigarette potrebbe farmi ricordare farà in modo e maniera che io non lo veda spingendomi magari in qualche altra direzione con qualche trucco facendomi notare qualcosa che mi attiro che di modo che cambio strada poi ripeto sul discorso delle motivazioni possono essere mille mila ci sono cose che da una vita all'altra non si devono e non si possono ricordare ci sono cose invece che si possono ricordare o addirittura che si devono ricordare e loro aiutano in questo compito più o meno tutti perché molte persone hanno dei ricordi re incarnici dei ricordi regressivi ma non conoscendo la tematica e non conoscendo la materia capitandogli poi prettamente per lo più in sogno e sogno lucido ma non riconoscendole non conoscendo appunto l'argomento pensano a dei sogni strani fatti così e finisce la questione se li scordano pure e quindi quei poveri cristi di accompagnatori dei ricordi dall'altra parte si strappano pure i capelli dal nervoso io ho fatto regressive anche per quanto riguarda il futuro perché le reincarnazioni non sono in ordine temporale quindi io mi sono reincarnata in vite passate ma anche in vite future e in qualche regressiva ho avuto qualche immagine qualche ricordo anche del futuro quella che mi è rimasta più impressa di tutte è stata una regressiva nella quale era in sogno lucido quindi io dormivo mentre la facevo e ho visto il mondo la terra il pianeta terra il mondo sulla terra ma non so dove fossi perché i nomi dei luoghi erano completamente diversi e la datazione che appariva su un pannello era il 3030 non so di che anno non so di che mese non so di che giorno avevo visto una sorta di atmosfera grigia e avevo vissuto un'esperienza nella quale ero io ma vivevo all'interno di una sorta di camper cioè una casa semovibile fatta a uscio fatta a uovo dalla quale non si poteva scendere non si poteva uscire perché l'aria era completamente senza ossigeno e tempestata di radiazioni si viveva ogni famiglia viveva in una di queste specie di case mobili ci si poteva incrociare con dei tunnel chiamiamoli così che uscivano e si collegavano un po' come quelli della camera pressurizzata dei razzi quando l'astronauta deve uscire dalla stanza dall'astronave e uscire nello spazio entra in una stanza di depressurizzazione è la stessa cosa c'erano questi tunnel che si agganciavano un camper io li chiamo camper però erano delle case mobili molto grandi un camper con un altro e attraverso quei cunicoli ci si poteva incontrare tra persone anche le città erano dei gusci enormi dove però la gente non viveva erano solo luoghi di scambio e di vendita di uno con l'altro di coltivazione eccetera tutto dentro questi enormi gusci ai quali all'esterno di queste città chiamiamole così si fermava la famigliola col proprio camper casa usciva fuori questa specie di tunnel per poter collegare il passaggio si agganciava a un aggancio apposta che aveva questa città mercato e la famigliola poteva uscire dal suo camper andare a comprare andare a fare quello che doveva fare non si usavano soldi ma si usava merce di scambio quindi quello l'ho visto bene in questa regressione vedevo che si scambiavano cose fatte dalle altre persone utilizzavano questo metodo altre cose non ne ho viste nel futuro quello che non ho visto non ho visto animali di nessun tipo di nessuna razza non so se si fossero estinti o se magari per sicurezze o per cosa per qualsiasi altro motivo non fossero in mezzo agli esseri umani magari non li ho visti io perché poi la regressiva comunque durata molto poco ed era molto confusa ho fatto un po' più di mente locale appunto a questa casa camminante che aveva una specie di pilota automatico dove tu gli dicevi da che città a città volevi andare questa viaggiava per conto suo quindi tu ti potevi grattare le pizze che quella andava da sola e i nomi nella cartina quella l'ho vista perché era la cartina dove tu schiacciavi da dove a dove volevi andare con sto coso con sto uovo camminante erano completamente diversi sia come scrittura e sia come nome proprio da quelli conosciuti praticamente in tutto il mondo che noi conosciamo ora quindi suppongo che tra un mille anni circa il mondo sarà completamente rivoluzionato non è detto però che fosse il pianeta terra magari avevamo lo stesso aspetto dei terrestri ma io ero magari su un altro pianeta questo non ve lo so dire non ho avuto né prove né conferme so che eravamo così umani normali come gli esseri umani terrestri però ripeto non ho certezze poteva anche essere un altro pianeta che ha lo stesso tipo di essere abitante non posso affermarlo con certezza e questa la ricordo però non ho visto altre cose non ho visto funzionamenti particolari dove si può anche inventare qualcosa di nuovo che no anzi sembrava per certi versi alcune cose erano piuttosto regredite rispetto alla tecnologia che abbiamo oggi alcune invece sembravano ipermoderne come appunto questa sorta di navigazione con il pannello touch dove tu dici che capiscono doveva andare sta cosa perché non c'erano le strade era tutto tipo terreno di terra battuta ma senza colline senza monti senza rocce tutto piano e queste camminavano dove gli pareva quindi non avevano neanche il problema del traffico una sorta di deserto dove camminavano solo ste vetture è l'unica cosa che ho visto che mi ricordo di aver visto in una regressiva che non era però né di ora né di un passato o perlomeno di un passato che io conosco del pianeta terra poi ripeto poteva essere un altro pianeta o poteva essere un futuro so che la data ammesso e non concesso che fosse una data nel pannello di controllo scriveva con i numeri che abbiamo noi sulla terra 3030 poteva anche però non essere un 3030 e essere altri simboli magari mi stava dicendo è finita la benzina con una lingua strana e a me sembrava un 3030 quindi anche lì io certezze non ne ho so però che era un sogno regressivo e lucido perché quando mi ci sono trovata mi sono detta oh sto sognando dove sono finita però sono io c'è la mia faccia deve essere una regressiva e poi ho avuto conferme perché ho incrociato anche due o tre persone che avevano la faccia che hanno oggi e quindi che sono in qualche modo collegate a me per cui ho riconosciuto il fatto dei fili rossi e quindi ho constatato che era una regressiva perché io i miei fili rossi quindi i parenti d'anima non di sangue li riconosco perché nelle regressive li vedo vestiti come in quell'epoca e tutto quanto ma il viso ci vedo quello che hanno in questa vita e quindi da lì capisco se è un'immagine regressiva o no quando li incontro comunque il discorso degli accompagnatori dei ricordi e il loro mestiere a cosa serve è questo non è che ci sia tant'altro da aggiungere molte volte li incrociamo specialmente in sogno ma appunto ripeto non conoscendo la tematica non conoscendo le metodiche a cui si affidano per poterci far ricordare o non farci ricordare determinate cose molto spesso non ci facciamo neanche caso pensando di aver sognato magari o di aver intravisto una qualsiasi entità che passava di lì per caso e buonanotte al secchio per cui anche tra i medianici è difficile il riconoscimento di questa tipologia di mestiere entatico chiamiamolo così detto questo vi saluto vi ringrazio sempre perché mi seguite qua sotto mi sono strappata tutto maglietta canottiera mi stavo facendo male da sola stasera non ce la posso fare sono cotta qua sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mille librerie che tengono in venite i miei libri fino adesso cinque ma a breve saranno six le soddisfazioni così per me era soddisfazione personale anche se non ne vendo manca una copia ma sono felice di essere riuscita almeno a pubblicare anche il sesto ognuno ha le sue soddisfazioni ciao